qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione molto bene cesare passerò da quella finestra voglio la mela ti faccio male dammi la mela è mia non tua voglio la mela saggia decisione sorellina requiescati in pace io so so dove sta andando quel bastardo a san pietro al padiglione del cortile grazie assassino diamine mi occuperò più tardi di te grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.